All'esito dell'attività d'indagine condotta dai carabinieri del Comando Provinciale di Palermo nell'ambito dell'operazione denominata Roccaforte, che lo scorso 24 gennaio aveva già condotto all'esecuzione di sette provvedimenti cautelari tra Palermo, Riesi e Rimini, la locale direzione distrettuale antimafia ha emesso 11 avvisi di conclusione delle indagini preliminari. In sintesi, le investigazioni hanno permesso di smantellare la famiglia mafiosa di Rocca Mezzo Monreale, inquadrata nel mandamento palermitano di Pagliarelli, nonché di confermare, ancora una volta, le storiche figure di vertice già ripetutamente condannate per il reato associativo. Svelata l'esistenza, in seno alla predetta famiglia mafiosa, di uomini d'onore riservati, rimasti sino a quel momento estranei alle cronache giudiziarie, i quali, pur dimostrando una piena adesione al codice mafioso universalmente riconosciuto da Cosa Nostra, godrebbero di una speciale tutela e verrebbero chiamati in causa soltanto in momenti di particolare criticità dell'associazione. È stata inoltre individuata la presenza di ulteriori figure risultate a completa disposizione del consesso mafioso, quali il portiere del complesso condominiale dove abitava uno dei principali esponenti della famiglia mafiosa investigata, o il geometra gestore di un'agenzia immobiliare della zona, che sfruttava la propria vicinanza con il capo famiglia di Rocca Mezzo Monreale per intimorire un cliente rimasto insoddisfatto degli esiti di una compravendita. Le indagini hanno permesso anche di intercettare una riunione segreta della famiglia mafiosa di Rocca Mezzo Monreale al completo, tenutasi per estrema prudenza in una casa nelle campagne della provincia di Caltanissetta. In quel contesto è stato registrato il costante richiamo degli indagati al rispetto delle regole e dei principi mafiosi più arcaici che sono considerati, ancora oggi, il baluardo dell'esistenza stessa di Cosa Nostra. Scongiolata anche l'attuazione di un proposito omicidiario, una vera e propria sentenza di morte emessa nel contesto della predetta riunione di mafia, nei confronti di un architetto ritenuto responsabile di una serie di mancanze nello svolgimento della propria opera professionale. È stata inoltre captata, all'interno di un rudere nella disponibilità della famiglia mafiosa investigata, una conversazione di altissimo valore investigativo nella quale è stata tra l'altro ricostruita nel dettaglio un'estorsione di notevole entità perpetrata in concorso tra gli esponenti delle famiglie di Pagliarelli e Rocca Mezzo Monreale ai danni del titolare di una sala ricevimenti posta in prossimità del confine territoriale tra le due articolazioni del mandamento. È stato ricostruito, infine, il compimento di ulteriori episodi estorsivi, uno dei quali caratterizzato dal ricorso a una metodologia particolarmente inquietante, quale la posizione, sul cancello di una privata abitazione, di una bambola recante un proiettile conficcato nella fronte.